Si rinnovano gli appuntamenti musicali organizzati nell'Aretino dall'Associazione Amici della Musica Arezzo. È stata infatti presentata la stagione concertistica 2015 che si aprirà ufficialmente domenica 8 febbraio alle 17 presso l'Urban Center di Arezzo. Con Massimiliano Damerini, pianista, in un concerto dedicato e omaggio a Scriabili nell'occasione del Centenario della Morte. Poi gli appuntamenti proseguiranno fino a maggio. La cosa importante e determinante è che accanto a grandi nomi, quali Daniel Rivera, Pianoforte, Ian Land e Francesca Martini, due cantanti lirici, ci sarà anche un'attività di concerti di ragazzi e giovani musicisti che però sono degni di attenzione. Quest'anno spazio anche ai giovani, in particolare con il progetto di Francesco Cappelletti, violinista e allievo del Conservatorio Cherubini, un modo per fornire ai ragazzi la possibilità di sperimentare varie espressioni musicali anche a livello internazionale. Sono ragazzi che prevalentemente sono usciti o si sono formati inizialmente al liceo musicale. Questo rapporto che deve essere e sarà in crescita attraverso i giovani soci con varie attività, fra cui una sarà il crescere Classical Festival nel primo inizio dell'estate e musica classica, sì, grazie.